Renzo Di Lisio, miglior giocatore del torneo Coste del Lago di Limosano, infatti ha in mano il trofeo che lo testimonia, Montaganese Doc. Com'è andato questo torneo di Montagano? Molto bene, per noi è un onore partecipare a questo torneo, ogni anno portiamo la nostra presenza e onoriamo il paese e ci veniamo a divertire come tutti gli anni. Portiamo qualche tifoso, qualche ragazzo che si diverte, si viene a divertire con noi, passare una serata diversa, dai. Tra l'altro tu sei praticamente molisano fuori sede, nel senso che giochi a calcio, quindi non propriamente a calcio a 5, cioè quello che hai fatto a Limosano, ma giochi a calcio. In che categorie e dove? Ho giocato quasi sempre Serie D, eccellenza in Abruzzo, Serie D al nord con la Folgore Caratese, ho avuto pure qualche combazio in Serie C in Svizzera, Serie B in Svizzera con la Scona, sei mesi a Messina, Serie C Lega Pro e quest'anno ho concluso in eccellenza in Abruzzo con il Capistrello. Per l'anno prossimo, visto che è periodo di ritiri, di convocazioni? Sto aspettando ancora qualche proposta dove andare, ancora non c'è niente di sicuro. Magari un ritorno in Molise? Mi piacerebbe, magari Campobasso, Agnone, chissà. Qualcosa può accadere? Magari, ci può stare. Senti, differenze calcio a 5, calcio a 11, tantissime? Tantissime, tantissime. Qui comunque noi lo pratichiamo molto a livello amatoriale, possiamo vedere la prima classificata, Cico Team, comunque sono tutti giocatori che hanno già una certa esperienza. A partire da Umberto Caruso che comunque gioca in Serie A e si nota già, c'è un abisso tra noi e loro. Il gruppo montaganese è pieno di entusiasmo, con tanti tifosi al seguito qui al torneo di Limosano e che si è ben comportato. Sì, sì, sì. I ragazzi ci tengono molto, sono ragazzi che si vogliono divertire, ci supportano e veniamo tutti insieme dal paese, veniamo qui a Limosano a passare una serata diversa. È stata una bella manifestazione. Certo, certo. Piena di gente, di colori e di entusiasmo. Infatti faccio le congratulazioni agli organizzatori di questo torneo che è veramente uno dei pochi tornei qui in Molise, è un gran torneo. È organizzato benissimo, gente seria, brava gente innanzitutto e complimenti.